Parliamo di economia, anzi di recessione economica. È sceso di oltre tre punti percentuali il prodotto interno lordo per la Puglia e per il mezzogiorno. Lo certifica il rapporto Svimez presentato stamane a Roma. Daniela Tortella. La notizia purtroppo non fa più notizia. L'Italia è in crisi e il sud lo è molto di più. Secondo il rapporto annuale dello Svimez sull'economia del mezzogiorno nel 2012, il centro nord ha perso in termini di prodotto interno lordo oltre il 2%. Nel sud la flessione supera il 3%. E nel sud la Puglia non è più l'Amenpeggio. Le regioni che hanno meglio difeso il loro PIL sono Campania e Molise. I più poveri sono i calabresi. Il PIL pro capite non arriva a 16.500 euro. I pugliesi possono contare su circa 700 euro in più all'anno. In tutto, meno della metà del PIL pro capite di un valdostano. Non sorprende che in 20.000 abbiano lasciato la Puglia per emigrare verso il nord. Secondo lo Svimez quel che serve è un progetto strategico a lungo termine che punti sulla riqualificazione urbana, sulle infrastrutture e soprattutto sulle energie rinnovabili. Campo, quest'ultimo, in cui la Puglia resta, se non altro, leader indiscusse in tutto il meridione. La maggior parte degli impianti eolici e fotovoltaici del mezzogiorno è concentrato nella nostra regione. Buono anche il potenziale per la produzione di energia geotermica. L'egemonia culturale della destra è stata impregnata di questione settentrionale che non era esattamente la sorella gemella della questione meridionale. La questione meridionale è sempre stato il tema dell'unità del paese, il risorgimento incompiuto, un paese a due velocità. Io penso che si paga lo scotto di politiche ambientalistiche, di senso ideologico, di inefficienza della burocrazia regionale, ma anche di quel governo regionale che non dà seguito alle nostre leggi sulla semplificazione.